o o o o o o o ciao sono skrillex e vengo dal futuro DAL FUTURO EHHHHH ah mamma un gatto che già riformati non riesco a dormire dormire non riesco a dormire no 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 chissà perché datemi una mano mano no no aiuto aiuto datemi un martello che cosa ci vuoi fare aiuto aiuto help 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 sono i beatles pronto sono skrillex eeeh sono skrillex io anche io signora mi può aiutare per favore eeeh no aiuto u aiuto u u u u u u u Grazie.